Dalle 4 al 7 giugno prossimi ritorna al parcheggio del Forobuario di Tolentino l'undicesima festa. Siamo con Michela Cesari, presidente appunto del Comitato Festeggiamenti e con lei parliamo del ricco programma di questa edizione 2015. Si inizierà già da giovedì? Sì, con la partita della rappresentativa dei Carabinieri e alcuni abitanti del quartiere Forobuario. E praticamente l'ingresso è libero e le offerte che saranno raccolte sono totalmente devolute alle case famiglie qui di Tolentino. E poi venerdì una serata completamente dedicata ai più giovani. Cioè sarà uno spettacolo, una musica del DJ Emiliano F e un'esimizione in collaborazione con la palestra meeting di Zumba con Maria Leda Giordano. Sabato 6 giugno invece si inizierà a partire dal tardo pomeriggio con la cerimonia di apertura delle Tolentiniadi. Sì, ci sarà questa nuova manifestazione ripresa da qualche anno, che si faceva qualche anno fa. Ci sarà la cerimonia di apertura con tutti i quartieri e le contrade che parteciperanno a queste Tolentiniadi. E poi la festa proseguirà con un'iniziativa pensata per tutti gli appassionati di calcio. Sì, ci sarà la possibilità di vedere la finale di Champions League, quindi ci sarà uno schermo e chi vorrà vedere potrà vedere la partita di calcio. Chi invece non è interessato al calcio potrà assistere ad uno spettacolo musicale. Sì, ci sarà uno spettacolo musicale con il gruppo dei Macedonia e quindi c'è il calcio e il divertimento chi non vuole assistere alla partita. Giornata principe della manifestazione sarà come sempre quella di domenica, si inizierà a partire dalla mattinata. Sì, dalla mattina ci sarà il mercato per tutto il giorno con prodotti artigianali, di obbistica e bancarelle. Poi ci sarà la pedalata ecologica, quest'anno intitolata Alberto e Flavio Serangeli, appassionati di ciclismo. Poi ci sarà il tiro con l'arco e alle 11 la messa, come di solito. Per tutto il pomeriggio un mago, Francesco, che farà un teatrino per i bimbi, giochi, palloncini e questo intrattenimento. Poi di sera ci sarà lo spettacolo musicale con il divieto di sosta. Parte del ricavato della festa, come sempre, verrà devoluto in beneficenza e proprio domenica sera ci sarà un'iniziativa particolare. Sì, l'abbiamo chiamato Progetto Foro Boario. Interverrà il professor Latini del reparto di oncologia di Macerata, a cui daremo il ricavato e la festa precedente dell'anno scorso per il reparto di oncologia. Quindi lui interverrà verso le ore 21 e ci spiegherà alcune cose per cui vengono usati questi soldi per la sua associazione. E quindi, ecco, noi ci fa molto piacere che lui intervenga di persona perché ci tiene molto e daremo questo, diciamo, il ricavato della festa precedente. E per tutta la durata dell'intera manifestazione sarà, come sempre, in funzione anche un ricco stand gastronomico? Sì, dal venerdì sera, poi il sabato sera e la domenica pranzo e a cena. E cucineranno le nostre cuoche come al solito, quindi saranno cose ottime e genuine.